E' stata inaugurata nel paese di Benvenuti al Sud la nuova sede operativa della protezione civile Gruppo Lucano, la nuova sede dell'associazione di volontariato già operativa da diverso tempo sul territorio di Castellabate, sorge in via Coppola presso l'edificio delle scuole media Santa Maria di Castellabate. La cerimonia inaugurale si è tenuta ieri pomeriggio alla presenza del sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, del responsabile della protezione civile Gruppo Lucano Castellabate Roberto Paciello e del presidente regionale della protezione civile Gruppo Lucano Giuseppe Priore. A benedire i nuovi spazi concessi gratuitamente dal comune al gruppo di volontari è stato invece il parroco Don Pasquale Gargione. Noi crediamo innanzitutto nei giovani perché è il nostro futuro, il futuro di tutti quanti e poi voler dare un senso civico che oggi quasi si è perso perché anche nelle scuole non so se è stato reintrodotto ma educazione civica non si fa più. Allora noi vorremmo anche tramite la protezione civile, tramite l'aiuto anche con le scuole, inserendoli in alcuni progetti PON, dare la possibilità di creare questo settore giovanile junior, quindi settore junior protezione civile, di ragazzi che hanno dai 12 anni ai 17 anni. Ovviamente ovviamente sulla formazione saranno fatti i vari corsi, cosa è la protezione civile, il rispetto del territorio, tutte iniziative volte a far sì che i giovani cominci un attimino a rispettare un po' di più e a conoscere un po' più il proprio territorio. È un momento molto significativo per il gruppo Lucano perché a distanza di 5 anni dalla costituzione del gruppo oggi abbiamo avuto il piacere di poter inaugurare finalmente la sede che diventa luogo di riferimento per le attività oltre che per i volontari ai cittadini tutti. Gruppo Lucano ormai attivo da tanti anni, sempre più consolidato con una rete che si muove su tutto il territorio regionale. Sì, in effetti la nostra realtà da diversi anni si è andata radicando anche sul territorio del Cilento, oggi possiamo vantare oltre 20 sedi operative con una crescita anche abbastanza certificata che porterà sicuramente i numeri più in alto nei prossimi mesi. Oggi diamo una sede, diamo anche un luogo dove incontrarsi, un luogo dove poter organizzare le attività del gruppo Lucano della protezione civile, col quale devo dire qui a Castellabate col Comune, col Comando di Polizia Municipale, si è assaurato in questi anni un rapporto di forte collaborazione e quindi abbiamo ritenuto giusto dare anche una sede dove poter ospitare questo gruppo così attivo nel nostro territorio. Di qui partiamo per cercare di mettere insieme e di portare avanti sempre più azioni sinergiche sul territorio, poi non dimenticando che a loro va comunque il nostro applauso, il nostro ringraziamento perché sono comunque attività di volontariato. Inserite nel discorso del gruppo Lucano che comunque è presente nella nostra regione, nella Basilicata, insomma nelle regioni meridionali ed è una grossa realtà da questo punto di vista per quanto riguarda il volontariato, anche qui a Castellabate avremo la sezione Castellabate del gruppo Lucano che insieme alla protezione civile comunale rappresenterà comunque un punto di riferimento. Speriamo da non apprezzare mai, da non valutare mai in caso di calamità, in caso di di sassi però rientra in quello che è il grande valore che il volontariato rappresenta in tutta Italia.